sentivo lì si parlava di ius scuolae a carta bianca e poi ius scuolae sarebbe questo diciamo è uno ius soli per le scuole no però il problema qual è che danno la cittadinanza ai ragazzini dopo 5 anni quindi magari un padre potrebbe non avere la cittadinanza e rivendicarla tramite il bambino che va a scuola però insomma è stata una mega rissa perché c'era l'aravetto non so se l'avete vista c'era l'aravetto della lega io sono favorevole a dare questo ius scuolae come lo ius soli e come tutto quello che serve per la cittadinanza agli immigranti è un po' la bandierina della sinistra però secondo me è giusto poi vabbè ma avevano invitato questi due che erano due persone che avevano commesso dei reati questi due marocchini che poi vabbè hanno scontato la loro pena quindi veniva semplicemente un ritratto di parte no hanno fatto un ritratto di parte ma non c'erano i marocchini che lavorano onestamente in italia che ce ne sono tantissimi mezzo milione di persone mezzo milione di migranti lavorano attivamente in italia o di migranti comunque dai ci sono persone che lavorano onestamente nel nostro paese sono perfettamente integrate poi dicevano a questo marocchino ah ma io mantengo le mie le mie le mie la mia fede religiosa le mie usanze ma è ovvio che sia così no cosa deve fare comunque dai va benissimo così comunque poi dopo si è parlato degli stipendi gli stipendi allora gli stipendi ah Gasparri rischia una querela perché gli ha detto a sto ragazzo di libri uguali ah se vai in un se vai in un maneggio di cavalli non so fai il il poni non so l'asino invece che il cavaliere ma secondo me Gasparri si è preso un emesimo accanto nel senso qui invece il reddito di cittadinanza è servito per aumentare i salari poi sono andati a fare un'inchiesta a forte dei marmi poi chiudo a forte dei marmi tra l'altro sono andato a correre sono andato a camminare oggi se ci vai spesso almeno migliori un po' sono andato è andato a fare un'inchiesta a forte dei marmi sugli stipendi ma si potrà fare un'inchiesta a forte dei marmi sugli stipendi dove è una zona di lusso vieni vieni a rimini a fare l'inchiesta vai nelle zone popolari vai giù al sud a fare un'inchiesta sugli stipendi stagionali cioè sono andati a parte di prendiamo 3.000 euro più 2.000 euro di mancia ma è ovvio sei in una località di lusso ma vai dove nelle località popolari io te lo dico quanto prendevo io da cameriere prendevo la fame altro che 3.000 euro io prendevo pochissimi facevo un part time prendevo prendevo niente prendevo meno di 10 molto meno di 10 euro all'ora per dirti quando lavoravo da cameriere quindi 10 euro all'ora sarebbe ah poi parlava vissani ah ma io do 10 euro all'ora ma scusate ma un primo costa da vissani costa 200 euro 100 euro non so quanto non paga neanche un cameriere 10 euro all'ora io prendevo 40 euro servizio ma 40 euro servizio non è niente cioè non è adesso ho fatto i conti neanche 10 io iniziavo alle 6 finivo alle 2 e prendevo 10 euro ne dovevo prendere 80 90 invece che 40 se capite questo è sfruttamento questo è sfruttamento è sfruttamento è ovvio che il reddito di cittadinanza qualcosina ha migliorato almeno sono obbligati a pagarti e poi usciamo dal film che prendono 500 euro io prendo 500 euro ma io sono un caso a parte io non ho conto non ho case intestate ma basta che te hai un conto corrente o hai lavorato gli anni prima e hai denunciato reddito io sono a reddito zero c'è domani ho fatto lì se sono a zero prendo il massimo ma sono un caso è una minima parte poi hanno fatto vedere gli incentivi che andato le imprese andato 30 miliardi di euro e non è non ha servito a niente per mezzo milione di lavori precari a co 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 però per i reddito 10 milioni 10 miliardi di euro ma ti ripeto di quella fetta è un milione di persone lo percepirete di cittadinanza che poi la destra toglierà ma di questa fetta chi prende 500 euro è il mio è la minima parte poi sono quelli che prendono 7 800 euro perché hanno i figli a carico e devono pagare le case popolari io non sono non sono in casa popolare quindi prendo meno ma voglio dire è una è una bagianata reddito di cittadinanza ma toglietelo toglietelo